Sì, è il primo che ha voluto l'autonomia differenziata. Mi sembro 5 stelle. No, io ti sembro un ragazzo che va a lavorare gratis perché vive in un paese che la scuola l'ha distrutta prima il Partito Democratico. Hai capito? Ma perché? E questo è il confronto che tu vuoi fare. Smettete la cosa e cazzate. Io voglio parlare, ma voglio parlare. Stiamo andando. Eh, voglio... Criticare. Eh, immagino. La stiamo vedendo ma non sta ascoltando la risposta. Ma dammi la risposta, te l'ho già chiesto. Vai, dammi la risposta davanti alla telecamera. Come abbiamo già... Perché hai detto? Come abbiamo detto mi... Allora, noi siamo arrabbiati perché lui... è venuto qua e ha detto delle stronti... Beh, vieni qua però, vieni qua. Ha detto delle cose molto, molto gravi. Ha detto delle cose tipo che l'Erasmus fra il sole e il nord va fatto. Noi abbiamo centinaia di amici miei che vanno al nord perché devono lavorare, non per fare l'Erasmus. Lui è andato con i Benetton, che sono quelle persone che hanno affamato l'Italia e che hanno ammazzato le persone col Ponte Morandi. Lui ha detto che la patrimoniale non è una cosa da fare. La patrimoniale risolverebbe il problema reale dei lavori. Lui il problema è che non vuole prendere una distanza reale dal centro-sinistra, non vuole prendere una distanza reale dal PD. I delgreti di sicurezza vanno aboliti, ma i delgreti di sicurezza li ha fatti anche Minniti. Minniti del Partito Democratico, i delgreti di sicurezza contro i migranti, i delgreti di sicurezza contro chi fa politica in questo paese e contro i poveri. Noi li abbiamo chiesto e lui non ha risposto. Strilla il fatto, non si fa così. Sì, sì, perché io non ho parlato, io volevo parlare solo con il centro. Basta. Ma tu ci puoi parlare, ci puoi parlare, ma non ci puoi parlare, ma non ci puoi parlare come sta a fare tu. Non si fa come sta a fare tu. Ma non male, perché se no lui non risponde. Ah, perché così si fa, questa è la discussione che tu proponi in piazza. Ma chi sta a fare il PD non sta a fare questa cosa. Ma io non sta a fare il PD non è questa cosa. Ragazzi, sì, il tema è che Salvini è arrivato morti, Salvini è arrivato morti, Salvini è arrivato morti. Non riesce a tranquillire, il tema non è questo, il tema è la mania della wikula. Chi l'ha creata deve rispondere, ma mettiamoci, ma mettiamoci, se stavano i trattativi. Io se mi sono fatto 800 chilometri è perché sono venuto a poggiare la lotta operaia. Ok, ma qual è il problema di quella lotta operaia? Perché la wikula può prendersi i soldi e andarsene? Perché a me mi hanno licenziato con quel cazzo di articolo 18 che il PD ha tolto. E sono cazzato. Ma tu hai ragione. Un anno fa mi hanno licenziato. Tu hai ragione. Il Jobs Act non posso più tornare a lavorare. Per colpa del Jobs Act delle stesse persone che il Santori appoggiano. Ascolta, io sono precario come te. E quindi perché non sei con me? Allora io sto con te, però ti sto dicendo. Perché si appoggi il PD che ha fatto il Jobs Act. Ma perché mi stai a dire che io appoggi il PD? Perché loro hanno appoggiato il PD. Ma perché me lo stai a dire? Tu a me mi stai a mettere una croce senza sapere cosa ho passato.